Buongiorno a tutti voi che mi guardate e mi ascoltate. Santa Pasqua di risurrezione a tutti. Cristo è risorto ed è vivo in mezzo a noi. Questo è l'annuncio che oggi riecheggia in tutta la Chiesa e in tutto il mondo. Una dichiarazione che però può rischiare di sembrare di non avere riscontro, di non avere attinenza nelle nostre vite. Perché? Perché purtroppo un po' tutti ci portiamo dentro a situazioni pesanti di dolore, di morte e anche perché vediamo che le persone dal punto di vista fisico muoiono ancora. Ma è proprio grazie a questo annuncio, cioè che Cristo è risorto, che la parola morte non è più l'ultima della nostra esistenza e può sorgere in noi la speranza. Certamente noi ora stiamo vivendo un dramma, ma viene uno altrettanto grande, anzi forse anche maggiore, che è quello di perdere la speranza, di non mantenerla viva. La nostra speranza invece si mantiene viva proprio grazie a questa festa, alla Pasqua, per cui chiediamo al Signore che venga e ci liberi dalle delusioni, dalle paure, da ciò che ci schiaccia, in altre parole che ci faccia vivere da risorti. Per cui ancora una volta, Santa Pasqua di risurrezione a tutti. Buona giornata.